Gli interventi sul comune di Nereto, così come negli altri comuni, sono partiti in quest'anno, due in particolare solo sul territorio comunale. Nel prossimo anno ci saranno altri interventi che completeranno la sistemazione delle strade nel comune di Nereto, così come negli altri comuni nessuno sarà lasciato indietro. E la stessa manutenzione ordinaria è stata fatta tempestivamente tramite lo sfalcio dell'erba e la chiusura di qualche buca, che purtroppo, vista la stagione piovosa di questa primavera, si è creata. Dovrebbe invece preoccuparsi il sindaco sullo stato degli interventi annunciati un anno fa, che ad oggi non trovano ancora nessun operatore sul territorio. Quindi a distanza di circa un anno, quell'intervento, tanto dichiarato sulla stampa da lui e dal suo mentore, non vede la luce e quindi desta preoccupazione per la comunità Neretese.